Le comunità parrocchiali di Santa Croce di Gargallo si sono unite domenica 4 settembre nel ringraziamento per i 40 anni di presenza delle sorelle di Santa Cecilia al servizio delle scuole materne e delle attività pastorali. A presiedere la celebrazione eucaristica Monsignor Douglas Regattieri, vescovo di Cesena Sarsina, accolto con gratitudine dal parroco Don Adam, da Don Rino Barbieri e da tutta la comunità. Per l'occasione era presente una nutrita delegazione delle sorelle di Santa Cecilia accompagnata dalla madre generale Suor Maddalena, un servizio quello delle suore svolto sempre davanti alla Madonna dell'aiuto e imparando da lei, ha detto Don Adam introducendo la celebrazione nella giornata conclusiva della sagra parrocchiale dedicata alla scoperta della vocazione alla santità. Monsignor Regattieri si è unito alle espressioni di riconoscenza verso le sorelle di Santa Cecilia che ebbe modo di conoscere e di apprezzare durante il suo ministero a Carpi e si è detto felice di poter pregare insieme alla comunità di Santa Croce e di Gargallo e invocare l'intercessione della Madonna dell'aiuto a cui è particolarmente devoto. Ultimo giorno di sagra anche a San Marino dove domenica 4 settembre è stato il vescovo a Erio Castellucci a presiedere la celebrazione eucaristica presso il santuario della Madonna dei Ponticelli con celebranti il parroco Don Marek e Don Michele, un sacerdote polacco amico della comunità fin dai tempi in cui era parroco Don Nellusco Carretti. Al termine della liturgia eucaristica alla quale ha partecipato anche una delegazione dell'Unitalsi di Carpi, Don Marek ha ringraziato il vescovo per la presenza e tutta la comunità per l'impegnativo servizio svolto in occasione della sagra che quest'anno, complice bel tempo, ha registrato un buon successo in termine di presenza e di coinvolgimento della popolazione di San Marino.